Oltre 200 firme raccolte stamattina sotto la pioggia per chiedere tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche degli anziani ospiti delle case di riposo comunali Isac di Bassano. Una mobilitazione promossa e portata avanti dalle sigle sindacali unitarie CGL Cisle Will che ha visto schierarsi in maniera forte, netta e decisa la popolazione e anche la politica trasversalmente. L'obiettivo resta anche quello di fermare la volontà di depubblicizzare l'ente. La popolazione è molto preoccupata per queste volontà che non hanno storia, questo è un'ente che appartiene alla città di Bassano, abbiamo già detto dal 1800 appartiene alla città di Bassano e così vogliono e vogliono che restino, quindi c'è molta preoccupazione attorno a questo, c'è preoccupazione sui servizi. Una mattinata caratterizzata oltre che dalla grande affluenza al banchetto di raccolta firme, anche da un'indiscrezione riguardo presunte dimissioni di Clemente Peserico, presidente del CDA Isac, dimissioni che invece il diretto interessato ha smentito ai nostri microfoni e dopo le smentite sono arrivate puntuali le piccate reazioni dei sindacati. Siamo veramente abituati a questo genere di esternazioni che poi non corrispondono mai ai fatti, non è una novità per noi. Noi andremo avanti su questa strada, siamo qui, abbiamo raccolto più di 200 firme oggi e le stiamo raccogliendo anche in altri posti e quindi noi andremo avanti. Nel momento in cui noi avremo le firme che ci servono, dopo le consegneremo e ognuno si prenderà la responsabilità, anche il dottor Peserico. Atto di responsabilità che non è arrivato, ci stiamo ancora domandando perché rimane lì, è sfiduciato da noi, adesso sarà sfiduciato dai cittadini, è sfiduciato dalla maggioranza e dalla minoranza. All'osso ci dobbiamo chiedere perché vuole rimanere e continuare a distruggere questa casa di riposo? All'osso ci dobbiamo chiedere.